L'area peggiore a Cremona è quella del quartiere Zeist, quello compreso tra la stazione e la tangenziale. La centralina della zona posizionata in via Fatebene Fratelli è infatti quella che ha registrato più superamenti della soglia di 50 microgrammi al metro cubo di polveri sottili consentita, 71. Addirittura già ad aprile ne aveva conteggiati 35. Noi abbiamo la sensazione da mesi che il traffico attorno al quartiere sia la principale causa di questi dati preoccupanti per la salute dei cittadini. Abbiamo però anche puntualizzato il discorso sul riscaldamento delle abitazioni essendo un quartiere prettamente residenziale che ci sono abusi sul combustione dei cammini privati che non vengono adeguatamente controllati perché non sono controlli di legge e abbiamo richiesto soprattutto un intervento all'ufficio ecologia in questo senso. Abbiamo situazioni di normalità nel senso che i cittadini non si rendono conto se non da questi dati scientifici che l'area sia peggiorata, però dobbiamo sempre confidare nel bel tempo, nelle piogge, nei fattori atmosferici che sono indipendenti dalla volontà dei cittadini. Ma quello dello smog non è l'unico problema del quartiere cittadino numero 6 che comprende Zaest, zona stadio, Lucchini e Annona. Secondo le ultime statistiche, infatti, via Mantova, una delle arterie principali della città, è spesso teatro di incidenti, tanto da meritare il primato in classifica tra le vie cittadine in termini di scarsa sicurezza stradale. Noi ci rendiamo conto percorrendola che ci sono delle strozzature sulla via Mantova Urbana in corrispondenza di via dei Cappuccini con via Pippia, in corrispondenza di via dell'Annona. Praticamente è una strada di grande scorrimento, però con rallentamenti improvvisi dovuti. Vuoi alle scuole, vuoi alla casa di cura San Camillo. Ci sono praticamente situazioni molto critiche che non sono secondo noi adeguatamente controllate dalla vigilanza sul posto.